Il treno regionale 2677 di Trenitalia, proveniente da Bracciano, è diretto a Roma e Portina, delle ore 16.39, è in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 2677 di Trenitalia, proveniente da Bracciano, è diretto a Roma e Portina, delle ore 16.39, è diretto a Roma e Portina, delle ore 16.39, è diretto a Roma e Portina, delle ore 16.39, è diretto a Roma e Portina. Aggiungiamo il distanziamento e il corretto utilizzo della mascherina, prima di salire sul treno, agevoliamo l'uscita del passeggere in discesa. Grazie per la collaborazione. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti